ci troviamo all'antica azienda raineri a chiusanico in compagnia di sabrina che ci spiega un po cosa è successo oggi allora oggi è successo una bella cosa abbiamo iniziato una collaborazione con la raineri di chiusanico che gentilmente ci ha aperto le porte per una serie di ricette di cucina in cui vengono messi in luce i prodotti dell'azienda stessa a cominciare dall'olio le olive taggiasche in salamoia quelle denocciolate le acciughe sott'olio il tonno il pate d'olive una serie una carrellata su tutti quelli che sono i prodotti dell'azienda nei piatto come mettere nel piatto che non sia solo un metterlo lì l'oliva taggiasca magari non insalata ma come si può realizzare un piatto anche con pochi ingredienti ma di gran gusto il tutto condensato in cinque ricette per incominciare che faranno parte poi saranno pubblicate su un sito internet apposito quali sono queste ricette si possono anticipare qualcosa assolutamente assolutamente io seguo molto la stagionalità degli ingredienti e la territorialità degli ingredienti quindi abbiamo iniziato con una zuppa di cavolo nero e ceci quindi piena stagionalità perché l'inverno ci offre questo il cavolo nero è uno dei vegetali che per eccellenza sono sinonimo di inverno un comfort food che scalda al cuore e quindi una zuppa cavolo nero ceci arricchita con un olio robusto un olio importante perché importante è il sapore del piatto e quindi deve essere accompagnato da un alimento perché ricordiamo che l'olio non è un condimento ma è un alimento con tutte le sue proprietà organolettiche gustative qualsiasi voglia che completa e rende armonia al piatto giustamente hai detto che l'olio è un alimento però ho notato nel viaggiando trattenendo qualche volta in ristoranti anche di fascia molto alta o alberghi che l'olio viene un po' è un po' l'ultimo dei convitati sulla tavola addirittura si trovano in oli serviti presentati in bottiglia senza neanche etichetta come mai purtroppo sì perché non esiste la cultura dell'olio se non in quelle terre in cui l'olio fa la storia quindi possiamo citare la liguria la puglia la sicilia la toscana dove comunque l'olio è tradizione l'olio simonimo di tradizione di cultura purtroppo però c'è ancora ignoranza in senso buono ovviamente perché non se ne parla di come l'olio non venga considerato o meglio viene considerato un condimento c'è un qualcosa che è in più in realtà l'olio è un alimento perché ha delle sue caratteristiche organolettiche perché ha un suo sapore perché ha degli abbinamenti con cui si può lavorare c'è l'olio più robusto più fruttato intenso c'è l'olio nuovo che ha una capacità di esaltare i piatti di un determinato tipo c'è l'olio più maturo più vecchio tra virgolette che serve in piatti molto più delicati purtroppo se noi paragoniamo guardiamo l'olio e il vino se noi dobbiamo andare a cena portiamo una bottiglia di vino e siamo pronti a spendere anche 50 euro anche di più per un qualcosa che poi finisce in una serata perché poi bicchiere tira bicchiere la bottiglia finisce in realtà l'olio noi non lo concepiamo in questo modo noi compriamo degli oli da pochi euro perché tanto l'olio non serve in realtà è molto più importante di quello che sembra e se pensiamo anche alla durata di una bottiglia di olio una bottiglia di vino in una cena finisce una bottiglia d'olio no una bottiglia d'olio se viene sapientemente usata e di olio buono serve e viene utilizzata per anche una settimana due settimane non di più perché comunque l'olio ha un suo periodo di degrado e poi deve essere anche mantenuta anche questo è un problema il mantenimento e la conservazione dell'olio spesso viene conservato alla luce vicino a fonti di calore questo sicuramente è un prova con deterioramento anticipato di quella che è la normale il normale iter dell'olio dell'olio della produzione d'olio e del suo mantenimento grazie sabrina prego